Ancora buonasera a te e buon viaggio da Moversi in Toscana in studio Mauro Ciutini. Code a tratti in A1, siamo tra Firenze in Pruneta e in Cisa-Reggello, la direzione è quella per Roma. Code anche a Firenze Sud in uscita provenendo da Bologna. Ci spostiamo in A11 la Firenze-Pisa, anche qui il traffico è intenso, siamo tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-West in direzione di Pisa. Veniamo alla Firenze-Pisa-Livorno, traffico intenso tra la Strassigna e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Firenze. Ci sono lavorina, 12 personale su strada tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano-Marittimo. In chiusura ricordo ci sono ancora rallentamenti sui viali a Firenze, via Guido Monaco, via Le Redi, via Le Belfiore, via Le Milton, via Le Strozzi, via Le Fratelli Rosselli. Moversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo. Grazie a tutti.